Siamo chiusi in casa per il coronavirus, ma anche noi volevamo celebrare l'uscita di Final Fantasy VII Remake e eravamo in attesa della nostra copia del gioco. E abbiamo finalmente ricevuto la... La nostra... Deluxe Edition. Brava, Noa! Final Fantasy Remake Deluxe Edition. Io, non avendo nulla da fare oggi che è domenica, mi sono messo la mattina a fare lo splendido cloud creato da Nomura-san nella mia versione. Buon divertimento a tutti! Ciao ciao! Ciao ciao!